Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 2 febbraio e nella consueta analisi settimanale prendiamo oggi in sotto osservazione il titolo Eni, uno dei titoli più seguiti dall'investitore italiano che in particolare tenta una ripresa partendo da un importante supporto. Facciamo una preanalisi veloce rispetto al business di Eni, vi ricordo che è una società guidata al 2014 dal CEO Claudio Descalzi attiva sull'insieme della catena di valore di idrocarburi dall'esplorazione all'estazione fino alla riferiazione e la distribuzione nonché la commercializzazione. Negli ultimi anni il mix produttivo di Eni si è fortemente accentrato sul gas naturale GNL con l'obiettivo che questo possa rappresentare il 60% della sua produzione di idrocarburi nel 2030 e oltre il 90% nel 2050. Eni ha inoltre sviluppato il proprio segmento plenitude legato all'energia a basso impatto ambientale con l'obiettivo di portarlo a mercato nel 2024 dopo un primo rinvio nel 2022. Passando invece rapidamente ai dati finanziari in sintesi, per i 9 mesi chiusi al 30 settembre 2023 i ricavi di Eni sono passati da 69,1 miliardi di euro in calo del 32% ai 101 miliardi di euro i primi 9 mesi del 2022, caratterizzati però da prezzi del petrolio e gas molto molto maggiori rispetto al periodo attuale. L'iuto di Eni è stato invece pari a 4,6 miliardi di euro in diminuzione al 65% rispetto ai 13,3 miliardi di euro registrati nello scorso periodo del 2022. Nel solo terzo trimestre 2023 la produzione di idrocarburi è stata pari a 1,64 migliaia di barili di petrolio equivalenti a un aumento del 4% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente, grazie in particolare alla crescita di produzione ai giacimenti in Kazakistan, in Indonesia e in Algeria. Passando invece all'annamento di borsa, come è evidente dal grafico che vi sto mostrando, Eni ha chiuso il 2023 rialzo del 15,52 con una performance positiva costruita in particolare grazie a velli estivo dello scorso anno, ma anche in verità è risultato inferiore rispetto al benchmark ovvero il Futsinib 40 che è chiuso l'anno scorso in rialzo del 28%. Il primo mese del 2024, come è evidente dal grafico, non è stato particolarmente brillante per il titolo Eni che ha in particolare subito le voci di una possibile vendita a voto del 4% del capitale in mano allo Stato italiano. Queste indiscrizioni sono cresciute perché il timing della possibile vendita sembra beneficiare il contesto di forte rialzo del prezzo del titolo negli ultimi anni sostenuto al piano di Barbeca dal periodo di recente extratofitti. Dal punto di vista invece tecnico è abbastanza evidente che il supporto in area 14,2, quello che vi sto indicando dal grafico, complice anche che la crescita del prezzo del petrolio si è opposto alla discesa dei prezzi. È evidente che il prezzo è notorio, che il prezzo del petrolio condiziona i corsi azionari e quindi considerando le crescenti tensioni geopolitiche non è da escludere un'ulteriore fase di tensione su Brent e VTI che potrebbero favorire una fase di riaccumulazione sopra questo supporto. Passando poi dalla teoria alla pratica andiamo sulla pagina prodotti Sogeni, in particolare vediamo come Societe Generale in questo momento abbia scritto su Eni 20 Turbo Open End, 15 long e 5 short e questa ampia gamma chiaramente offre l'opportunità di operare sia a rialzo sia a ribasso con leve più o meno importanti. Nell'ipotesi di un ritorno di interesse sui titoli energetici, in particolare su Eni, possiamo ad esempio considerare questo prodotto di E00SV6JQT6 che a fronte di una leva di poco inferiore a 5 e di una barriera che andiamo a individuare a 11 e 66 e 44, offre insomma un discreto interesse considerando che i prezzi sono distanti dalla barriera circa il 22% rispetto ai valori attuali. Qualora invece dovesse consolidarsi un trend ribassista sul titolo si può valutare quest'altro prodotto quindi un Turbo Open End Short di E00SV3WE48 e questo chiaramente si può valutare per una operatività evidentemente ribassista che ha una leva intorno a 5 e una barriera di KO a 17 e 73 che è quindi superiore a importanti livelli di resistenza posizionato in prossimità di 17 e 70 per i massimi toccati nell'aprile del 2015. Ricordo infine che i certificati Turbo sono prodotti complessi altamente speculativi e vanno analizzati con cura le caratteristiche e i potenziali rischi riportati nella rettiva documentazione legale dei prodotti. Bisogna sempre tenere a mente che l'investimento nei certificati Turbo può esporre una perdita massima pari alla totalità il capitale investito e in particolare bisogna tenere presente che questi certificati presuppongono un approccio di breve termine come indicato nel relativo KID e un monitoraggio continuo all'investimento. Direi che per questa settimana è tutto, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento ai prossimi video.